Ariose visioni, ventagli pubblicitari e immaginario collettivo. Il titolo della mostra e il tema delle conferenze in programma tra metà ottobre e metà novembre alla Biblioteca della Regione di Via Confienza 14 a Torino. L'esposizione inaugurata il 17 ottobre propone 120 ventagli a carattere pubblicitario prodotti a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Gli esemplari sono stati selezionati dalle collezioni private di Laura Borello, Maria Grazia Gobbi Sica e Laura Pederzoli. La mostra è visitabile fino al 16 novembre.